Bella a tutti amici di Oké Watch Italia e ai nuovi amici appassionati di carte Pokémon Sì, avete visto la webcam, il titolo, anche oggi, anche questa settimana ci unboxiamo qualcosa perché sono preso benissimo e tra l'altro vi chiedo una cosa impossibile ragazzi vorrei provare ad arrivare a 100 mi piace quindi iniziate a spolliciare in su e a condividere il video perché, vabbè, in sto box che andremo, in questa tin scusate che andremo ad unboxare oggi non credo che ci troviamo nulla di buono però io vi dico arriviamo a 100 perché ho qualcosa che ho trovato in edicola in questi giorni molto interessante per esempio la tin di Sylveon oppure la tin di... o quella di Marshadow che pare che ci sia qualcosa di molto interessante tipo le bustine di evoluzioni che hanno un valore discretello discretello quindi proviamoci 100 intanto le views le facciamo quindi ognuno di voi deve per forza lasciare like se non sei iscritto iscriviti pure però cavolo il like lo voglio perché voglio unboxare, voglio vedere cosa c'è lì dentro voglio soprattutto vedere se Jadis non ha scammato anche a sto giro va bene? io direi di iniziare ad unboxare perché abbiamo anche creato non poco quindi sbam ragazzi con il nostro... scu... scu... eccoci qua allora Sobol eccolo lì che bello che sei non ti ho mai visto da così vicino lo andiamo ad aprire abbiamo il nostro marietto il bilancino gaietto perché come lo prende lui il pacco non lo prende nessuno quindi direi che è un po' gaio a sto giro mi raccomando prendi bene i pacchi ho ravvicinato tutto quanto perché mi piace così allora così si vede meglio on off lo accendiamo però voglio vedere cosa c'è qua dentro apriamolo secondo me non c'è nulla di che spacca tutto vi mancava una tin nuova allora plasticaccia la mettiamo qua via si apre si è aperta non ci credo e abbiamo intelion vi che ve lo faccio vedere perché è davvero davvero un pokemon che non mi piace intelion ehi vai con calma vai con calma vai con calma eccolo qua proprio bello intelion non lo so non minzicchia più di tanto ve lo faccio vedere da qua se vi piace a voi a me non piace lo metto qua poi lo afficcherò in questo album perché questo qua sotto ragazzi è un album lo so che non ve lo immaginavate allora all'interno abbiamo altra plastica quattro bustine credo allora tu hai rotto eh tu hai rotto ti vuoi suicidare altra plastica ragazzi e indovinate un po' un sacco di niente c'è davvero un sacco di niente oltre alla plastica quindi via via sacco di niente bustine via plastica allora abbiamo una bustina di spada e sculo un'altra bustina di spada e sculo una bustina di sole e luna eclissi sosmica che è cosmica e sole e luna invasione protratta scarlatta penetrante allora vediamo un po' di pesare partiamo con sole e luna boom cavolo non arrivi neanche a 22 ben 21 e 59 se la più pesante come sempre in questo momento ti metto lì eclissi cosmica 22 e 24 bella cicciottella spada e scudo con zazian 22 e 36 l'altra era 54 22 e 54 quindi 6 tac sbam e l'altro spada e scudo con chi è questo con snomex 22 e 39 quindi ti metti qua subito in seconda posizione boom quindi ci andiamo a sbustare così spendiamo marietto e che gli è mario partiamo con sole e luna invasione scarlatta con stranamente in sole e luna invasione scarlatta ci sono i pokemon di sole e luna lo so che non sembra però ci sono i pokemon di sole e luna non volevo dirvelo così però ci sono anche le altre creature di sole e luna attenzione non so perché in sole e luna ci sono i pagon di sole e luna mi sembra strana come roba e ti voglio aprire bustina ok togliamo il codicello eccoci qua qual è il trick qua 1 2 3 4 chi lo sa chi può dirlo forse è sempre 4 allora si energia energia diciamo allunghiamo un po' ecco perché non si vede tutto boom emolga contracchiappa pokemon sembra un nome un po' forviante ma while star you cacnea shell matt bella sta ma chi se ne frega poi abbiamo uno swa blue siamo quasi a quelle cicciotte abbiamo uno swinub una hollow reverse di aaron e boom un regi steal bella bella schifezza però aaron lo teniamo qua va bene ok andiamo avanti con spalla e sculo spalla e sculo che ce ne erano esattamente due se si vuole aprire non si vuole aprire che miseria spacco tutto io qua sicuramente non è scammata se si è stata scammata l'hanno riattaccata con con l'attac e non con il vinabili come quella dell'altra dell'altra team ma non era un team era un box di cartoncello vai mettiti qua uno due tre un fear zack energia la mettiamo qua con l'altra energia perché dopo le divido sudo uodo eldegos eldegos ricerca di energia che è slizipede jampere club che bello lui c'ha iniantato era tanta roba almeno mi piaceva un sacco c'ha iniantato cottone sembra sembra cottone una parola giapponese ne a parte che ne si dice spesso in giapponese vabbè fa niente chi se ne frega ciutle energia aurora oro reverse figa mi piace un sacco e dietro attenzione dietro c'è qualcosa di nero quindi una v di zama zenz zavi bella bella non è andata male non è andata male questa almeno abbiamo trovato una v allora noi mettiamo questo qua e questo qua ok poi avevamo altro spade scudo cavolo se non ti apri ancora do fuori di matto do fuori di matto no no questa si apre velocemente ok velocemente virgola bella cosa ho già trovato ragazzi non ci crederete mai uno due tre zei allora ho trovato un'energia cioè voi l'avete mai trovato un'energia nelle bustine io no la prima volta velox ball mantine attenzione attenzione ho già visto qualcosa da dietro dotler munna che questo era quel pokemon che ho visto snom che anche lui shiny è verde non so perché mai verde verdino sembra un po' un verde pisciatello gruchi molto carino schilder ma wille che bello che sei così molto meglio quest'artwork dell'altra che ovviamente era uguale un'altra energia aurora cavolo pensate che culo e la v di wabuffet wabuffet mi piaceva un sacco wabuffet avrò visto tipo quattro puntate dei pokemon quattro ma wabuffet arakin non ti girare stai portando sfortuna no speriamo di no eclessi cosmica cioè tu mi stai dicendo che qua qua dentro ci può essere un blastoise io do fuori di matto se trovo blastoise impazzisco impazzisco quindi anakin fammi trovare blastoise ragazzi commentate commentate a manetta manetta non perché vi fate arrestare ovviamente non lo sia mai poi non mi mettete like non si arriva a sbustare le robe grozze allora boom bustiella via facciamo il trick uno due tre quattro spero che sia uguale agli altri sapete che non me ne intendo ho già visto qualcosa ho già visto qualcosa è un'energia ovviamente energia pyroar spettacolo spettacolo pyroar tro to tangroot ivano ivano daskal timpole timepole flabebe shenshryu di alola snizzle hollow reverse e dietro c'è qualcosa di bello ragazzi cosa di bello alleati arcius di alga e palchia forse questa vale qualcosa ragazzi è veramente bella raggio finale creazione alterata inutile che leggono per intanto non ne ho idea però mi sembra molto bella credo che sia la mia prima gx perché non sono stato molto fortunato con gli altri pacchettini cavolo tanta roba ragazzi tanta roba abbiamo droppato 2v oltre a intelion qua che vabbè dai lo tiro fuori solo perché siete voi via plastica solo perché siete voi direi che non è andata male 4 bustine 4v barra gx io direi che qua tanta roba con il con il pollicione in su in su quindi ragazzi per oggi è tutto mi raccomando guardate mi levo pure gli occhiali e non ci vedo più una mazza finché non mi arrivano le dette mi raccomando dove siete siete là no scherzo vi vedo vi vedo a tutti vi vedo quindi mettete il pollicione su perché se no qua la protolimesis in seliana non saprete mai che cos'è e io lo dirò nella prossima sbustata con uno di questi tre perché ci tengo e probabilmente sarà sylveon perché voglio sbustare sylveon perché l'evolution mi piacciono un sacchetto e ragazzi bella lì alla prossima grazie per la compagnia che io ho fatto voi e voi avete fatto a me soprattutto perché voi siete più di me io sono uno solo voi siete in più quindi fate più compagnia a voi alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao